Anche Bitonto registra dei casi di positività al Covid-19 all'interno delle scuole, dopo quelli riscontrati nella provincia di Bari. In linea con quanto accaduto nelle altre città, anche nella nostra, il contagio non si è sviluppato dall'interno degli istituti scolastici, ma dall'esterno. E il caso ultimo di uno studente risultato positivo al coronavirus, al liceo classico Carmine Silos di Bitonto. La classe frequentata dallo studente positivo è in didattica a distanza e l'intera aula è stata sanificata, come da protocollo. Altri cinque studenti di un'altra classe, che sarebbero entrati in contatto con il positivo durante una cena, sono a casa in isolamento fiduciario e seguono le lezioni in didattica digitale integrata. Invece, gli ambienti della scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII, afferente al circolo didattico Nicola Fornelli di Bitonto, sono stati sanificati per ben altri motivi. Un furto ignobile in un momento davvero particolare, come quello dell'emergenza sanitaria. Dopo la chiusura preventiva immediatamente richiesta dal dirigente Teresa Mondelli, la scuola ora è tornata alle normali attività. Stiamo parlando del furto avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 ottobre. Dalle prime ricostruzioni i malfattori si sarebbero introdotti nella scuola, rompendo una finestra del retro e portando via un televisore, uno stereo, una cassa acustica e materiale di poco valore, come detergenti e scatole di colori. All'indignazione del sindaco Michela Baticchio si è unita l'assessora alla pubblica istruzione Marina Salerno. Spiace constatare la bassezza umana di coloro che hanno posto in essere l'infimo gesto, ha commentato sul suo profilo Facebook. Considerato l'esiguo valore economico degli oggetti sottratti, deve essere ferma la condanna etica nei confronti degli autori del furto.